Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video e... mi viene da ridere mi viene veramente da ridere perché vedo sempre questa brutta abitudine di non aspettare nemmeno che le stagioni finiscano e incominciare secondo me a speculare perché di quello si tratta su giocatori che possono arrivare nella prossima stagione questo nome l'ho letto questa mattina girando un po' così, leggendo un po' di notizie dovete sapere, questo non è un product placement o quant'altro io ho una mia applicazione in cui ho inserito tutta una lista di fonti, di notizie e l'applicazione me le fa vedere costantemente prendendole da diverse fonti io ho ovviamente i quotidiani sportivi più importanti come il Corriere dello Sport che è principalmente quello che seguo di più però ho anche la gazzetta, ho Sky, ho Dazon, ho per dirvi La Repubblica ho il Messaggero, comunque parecchie fonti di notizie ho Sky, ho l'Huffington Post, ho il Post e questa applicazione mi fa vedere tutte le notizie prese dai siti una per una in ordine temporale quindi dalla più nuova alla meno nuova così giornalmente, quasi giornalmente in realtà scorro questa applicazione e mi compare la notizia di Miretti che sinceramente non ricordo nemmeno benissimo da chi è stata pubblicata però, però siamo in questo momento è domenica 24 marzo alle 10.34 questo è l'orario di adesso possibile che io domenica 24 marzo una settimana prima di Pasqua parecchie settimane prima che finisce il campionato io sia costretto a leggere notizie di questo tipo? perché ammesso e non concesso che sia vero ok ma perché adesso? perché? queste, per come la vedo io sono quelle classiche notizie che se sono vere difficilmente la gente ci crederà se sono finte lo si può intuire e se sono nel mezzo hanno comunque poco senso di esistere per via della metodologia pubblicato tanto per giusto secondo me per cercare di prendersi palesemente qualche click perché per la sosta delle nazionali è comunque difficile che tu abbia delle notizie inerenti alla squadra più che altro ce l'avrai sui singoli impiegati in nazionale quindi cercare di attirare quanto più pubblico possibile e si sa che nel calcio l'argomento che attira di più è il calcio mercato e quindi è palese come questa notizia secondo me sia stata fatta semplicemente per questo motivo ma voglio fare un gioco così per divertirmi ammesso e non concesso che in realtà questa notizia sia vera facciamo finta che sia vera proviamo ad analizzarla perché anche fingendo secondo me che tutto questo in realtà sia reale mi sembra alquanto leggermente illogica ok allora se non erro la notizia in realtà non parlava di una vera e propria proposta ma più che altro di un'idea di un interessamento del Cagliari nei confronti di Miretti e anche di un altro giocatore della Juventus che adesso come adesso è in prestito al Bologna eh sì al Bologna al Pisa mi sfugge il nome perdonatemi però si parla di un interesse del Cagliari nei confronti di di Miretti allora se il Cagliari retrocede perché ovviamente devi calcolare anche queste cose penso che ovviamente non se ne farà nulla perché Miretti io adesso lo vado a cercare su Transfer Market Miretti ha un valore di 15 milioni a 20 anni e in questo anno ha giocato 20 partite fatto un gol un assist e il 50% delle volte praticamente è sceso in campo da titolare in realtà poco meno perché è il 48% ora tra l'altro con anche due presenze in compa Italia ed anche qui un gol e un assist se lo procediamo ho detto il problema per evidenti motivi non si pone perché non penso che Miretti dopo aver giocato metà delle partite da titolare con la Juventus venga a farsi la serie B a Cagliari penso sia evidente se rimaniamo in serie A come possiamo pretendere che il Cagliari si interessi a Miretti cioè perché parliamoci chiaro a me Miretti non mi fa gridare allo scandalo come giocatore cioè mi piace è un buon giocatore non gli si può dire il contrario secondo me però non mi sembra che sia proprio il fenomeno dei fenomeni ecco non stiamo parlando di uno Xavio o di un Iniesta o di un qualsiasi altro o di un Beckham ecco stiamo parlando assolutamente di un buon centrocampista italiano ecco stop niente devo disattivare la stronza perché ogni volta mi fa infartare infartare stiamo parlando di un buon centrocampista ma nulla di più se noi ci salviamo per il rotto della cuffia o anche relativamente tranquilli che mi sembra strano però può capitare è un'opzione che non si può escludere al momento attuale come pretendiamo che una società come il Cagliari possa andare a prendere un giocatore che sta praticamente giocando da titolare con la UE vi faccio questa semplice domanda con la potenza economica che ha il Cagliari come può andare a prendere un giocatore come Miretti questa notizia non è una notizia perché è come se sul sito uscisse come ultima news Cagliari interessato a Dolan Cagliari interessato a Mbappé Cagliari interessato a Vinicius è normale cioè sarebbe strano il contrario che il Cagliari non fosse interessato a giocatori di questo spessore di questo calibro è logico è normale e questi geni perché è una sottile linea tra genialità e non saprei nemmeno come definirlo l'opposto demenza probabilmente è una sottile linea e questa news ci naviga perfettamente allora secondo loro il Cagliari è interessato a Miretti a me la prima risposta dare o mano e la più spontanea sarebbe che mi verrebbe da dire grazie al cazzo cioè è un centrocampista della Juve che sta giocando comunque con un buon minutaggio per essere comunque un ragazzo di vent'anni gioca in una delle squadre più forti dell'Italia sarebbe strano non essere interessati questa notizia poi viene fatta anche tenendo cioè tenendo immaginandosi che comunque il centrocampo del Cagliari sempre con la postilla se si rimane in serie A è comunque completo perché voi io sinceramente per quanto possa apprezzare Miretti questa frase probabilmente suonerà strana anche a molti di voi però io la penso così anche perché parlo senza aver seguito più di tanto in realtà la Juve e Miretti quindi le mie parole per voi potrebbero trovare poco tempo e potrebbero valere zero però con gli interpreti che abbiamo adesso al centrocampo io sinceramente a parte che troverei poca giustificazione per questo eventuale acquisto facendo sempre finta che sia vero e se noi andessimo a prendere Miretti innanzitutto con quali soldi perché è la cosa più importante e secondo chi andremmo a sostituire perché io ho un problema io mi leggo molto ai giocatori e so che non dovrebbe essere così perché quello che conta è in primis la squadra e sono d'accordo sono fermamente convinto di questa cosa però comunque ho una passione viscerale molte volte per alcuni giocatori per esempio non l'ho mai nascosta per Nandez però nulla mi vieta di criticare quando c'è da criticare nel centrocampo attuale del Cagliari io faccio fatica a trovare un nome da sostituire e se sono nomi da sostituire sono nomi di seconde linee e se noi andiamo a prendere Miretti non è certo per farvi fare la seconda linea sarà un titolare assoluto ma di quelli che abbiamo noi adesso a centrocampo io non mi sento di mandare nessuno in panchina perché so che a molti non piace ma Mago con Buu non me lo sento di mandare in panchina perché è l'unico al momento attuale che è detto ai tempi del Cagliari è l'unico che ha questa capacità ed è l'unico che riesce a farlo chi mandi via sulle mana lo stiamo riscoprendo adesso si è fermato per l'infortunio ma per quello che ha fatto vedere secondo me non si merita di diventare una seconda linea perché comunque il ragazzo le qualità ce le ha è giovane perché? che mandi in panchina Prati? sì per carità Prati quest'anno si è fatta molta panchina ma non penso che anche lui sia felice perché comunque anche lui il ragazzo le qualità ce le ha e se tu lo fai giocare con continuità potresti scoprire di aver fatto un acquisto della madonna e parlando anche in termini economici di una futura plusvalenza io lo so lo so che questo video non avrebbe nemmeno senso di esistere perché stiamo parlando del nulla più totale però parte del problema del giornalismo italiano è anche questo forse sono io che sono sbagliato e la penso in maniera diversa ho dei principi diversi e sono una persona diversa però io sono abituato che quando non si ha nulla da dire è meglio stare zitti e questa è una cosa che va in contrapposizione anche con quello che sto cercando di far rendere un lavoro ovvero youtube perché è vero che a volte è meglio che se non si ha nulla da dire è meglio stare zitti però se io voglio rendere questo un lavoro questo mio stare zitto mi porterebbe a non guadagnare niente e quindi non riuscire a rendere questo un lavoro è un bel dualismo questo però da qui a parlare di presunti interessamenti secondo me ce ne passa questa è una notizia che veramente per tempistiche per modalità per criterio non ha di che esistere se fosse vera è uscita nel momento più sbagliato e soprattutto è estremamente vincolata a quello che sarà il destino del Cagliari quindi perché farla uscire che senso ha e se c'è un fondo di verità se ci fosse un fondo di verità mi chiedo Miretti verrebbe al posto di chi al posto di De Iola è una domanda che io ho voluto farmi per gioco sapendo che ovviamente queste notizie le devo prendere come vengono come un gioco però questo è un argomento che a me disturba parecchio perché io di indole veramente se non ho niente da dire preferisco starmi zitto magari posso anche avere un mio pensiero su un'eventuale situazione o una qualsiasi altra cosa però se non c'è nulla da dire perché parlare è meglio stare zitti perché poi si rischia anche di diventare poco credibili di essere associati a persone o testate che tendenzialmente rilasciano notizie che hanno ben poco senso di esistere quindi più vado avanti e più mi continuo a chiedere il perché di tutto questo secondo voi perché oltre al mero scopo ovvio e palese che io ho sottolineato soltanto una volta per ovvi motivi ma oltre al fatto di ottenere qualche click in più perché c'è questo atteggiamento e nel caso fosse vero secondo voi Miretti a chi dovrebbe rubare il posto di chi prenderebbe il posto e chi sarebbe a essere ceduto con quali soldi arriverebbe Miretti perché poi oltre a comprare il giocatore dalla Juve che de certo non te lo regala a due spicci perché già il suo valore è 15 milioni e secondo me se lo vuoi portare a Cagliari lo devi almeno raddoppiare e poi l'ingaggio glielo devi pagare chi verrebbe ceduto e con quali soldi lo andremo a prendere l'ingaggio chi glielo paga perché giusto per curiosità sicuramente prenderà poco perché non prenderà più di tanto Fabio Miretti ingaggio cioè comunque ha 20 anni e già prende un milione di ingaggio 2023 e 2024 fonte da zone tra l'altro ve lo faccio anche vedere a voi così per completezza di informazioni perché poi sembra che me la canto e me la suono eccolo Fabio Miretti 48% delle partite da titolare contratti scadenza il 2027 questo è il rendimento attuale e questo è quello che vi ho letto adesso Miretti voglio selezionare ecco Miretti percepisce un milione all'anno secondo voi se arriva a Cagliari vi chiede soltanto un milione fatemi un favore mi rivolgo a tutti i giornalisti e le testate pubblicate con criterio e piuttosto non pubblicate ne fate più che altro la vostra reputazione e niente ragazzi il video finisce qui fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo non ci becchiamo in un prossimo video bella grazie